Ciao, come stai? Spero tutto bene. Oggi ti voglio parlare di mute da triathlon o nuoto in acqua e libere. Triathlon è una mia grande passione da tanti anni e voglio presentarti una muta da triathlon o nuoto in acqua e libere veramente eccezionale, sorprendente. Tutte le volte che la faccio provare, le persone l'avevano scartata inizialmente, non la consideravano e invece poi si ricredono. Questa è la muta Selfish G-Range. Selfish, ne ho già parlato in un altro video di cui ti metto il link. È un marco con cui collaboro, mi piace molto. Puoi trovare i loro prodotti nel sito e-commerce di cui ti metto il link qui sotto. Beh, Selfish G-Range è una muta caratterizzata per il colore giallo. Allora, perché non viene considerata? Perché le persone quando acquistano una muta guardano le caratteristiche tecniche sui siti e guardano gli spessori e questa muta è leggermente meno spessa. Va da uno spessore minimo di 2 mm a uno spessore massimo di 4 mm, mentre le mute arrivano da per nuotare fino a 5 mm di spessore. Ma la differenza tra 4 mm e 5 mm non è così invalidante in termini di galleggiamento. Questa muta è estremamente speciale perché la G-Range di Selfish è stata costruita per avere una flessibilità e una libertà di movimento che sono incomparabili, ineguagliabili. e ti dà la stessa termicità di una muta da 5 mm e forse ti dà un 5% in meno di galleggiamento. Ma quando tu la provi in acqua, la libertà che hai sul dorsale, la libertà che hai sui fianchi, la morbidezza che hai sul collo, il galleggiamento che ti fa tenere, la libertà che hai anche nei polpacci quando te la devi togliere in fretta dopo una gara, durante una gara, fa della muta Selfish G-Range. Secondo me la muta migliore per il triathlon è il nuoto in acqua libere. La maggior ragione per il nuoto in acqua libere è dove non ti devi sfilare la muta. e è sorprendente provarla, tutti rimangono colpiti perché non si ritiene che ci sia una grande differenza tra una muta e l'altra, invece questa è eccezionale. La muta è ancora più di una scarpa che ci imbriglia il piede, è come una camicia di forza se è fatta di pessima qualità. E anche una buona muta comunque ci tiene un po' chiusi nei movimenti. Questa muta Selfish G-Range è stata progettata per farti nuotare come se non avessi una muta addosso. È eccezionale, consiglio veramente di provarla, io la faccio provare in acqua. Se vuoi delle informazioni su questa muta e comparazioni con altre mute scrivimi pure nei commenti, sono felice di risponderti. Ciao e buona corsa o buona nuotata!